Il grande ascensore di cristallo di Roald Dahl Che cosa mai lo tiene per aria, questo coso pazzesco, gracchiò nonna Josephine. Signora, le rispose il signor Wonka, questo coso non è più un ascensore. Gli ascensori si limitano ad andare su giù dentro i palazzi, ma ora questo qui, che ci porta su nel cielo, è diventato un ascensorazzo. Oh sì sì sì, il grande ascensorazzo di cristallo. E che cosa lo tiene per aria, insiste nonna Josephine. Ganci celesti, disse il signor Wonka. Lei mi stupisce, disse nonna Josephine. Cara signora, disse il signor Wonka, lei è nuova nell'ambiente. Questo però sarà stata con noi per un po' di tempo, niente più la sorprenderà. Questi ganci celesti, disse nonna Josephine. Suppongo che da un capo siano agganciati alla baracca nella quale viaggiamo, vero? Vero, assenti il signor Wonka. E all'altro capo? A che cosa stanno attaccati, chiese nonna Josephine. Ogni giorno che passa, borbottò il signor Wonka, divento sempre più sordo. Ricordatemi di chiamare il dottore per farmi controllare le orecchie appena torniamo. Grazie. Grazie. Grazie.